In questa puntata di Vitamina EDC, Moab 6D511, una torcia portachiavi, il Foxcore Tanto, questo è il Cash di Vanquist, una penna tattica, Ivy's Commuter Rain Cover. E benvenuti ad una nuova dose di Vitamina EDC, il nostro integratore di felicità. Come ogni sabato ci ritroviamo per guardare insieme cosa mi sono portato durante la settimana e come ho organizzato il mio EDC. Se siete nuovi nel mondo dell'EDC dovete sapere che non si tratta nient'altro di quello che ci piace portare con noi. E io questa volta ho scelto un monospalla, ma prima di parlarvi del Moab 6 c'è una notizia bomba che farà felici tutti gli appassionati di EDC e di torce. È uscita la nuova Nightcore EDC29 ed è già possibile preordinarla su Backpack.it. Caratteristiche da paura, 6500 lumens, blocco manuale, blocco meccanico, possibilità di scegliere se utilizzare per difesa il Lumenshield oppure il nuovo sistema stroboscopico di Nightcore per la difesa personale. Presto la vedremo in tutti i dettagli, per il momento tutte le informazioni sono disponibili su Backpack.it e le prenotazioni sono aperte. Dicevamo per questa settimana ho scelto un monospalla, adesso comincio a godermi sempre di più i monospalla, le borsette, gli zainetti, perché porto più cose con me e perché mi danno anche meno fastidio addosso visto che non fa più tanto caldo. Quello che ho usato questa settimana è l'ormai classico Moab 6 di 511. Ne abbiamo parlato recentemente al barpacco, ne abbiamo accennato, perché è uscito il marsupio Moab 3, che è proprio un marsupio configurabile anche per il porto a tracolla, lo state vedendo a schermo, ma è più piccolo, molto più piccolo del Moab 6. Vi ricordo che se vi dovesse servire una capacità maggiore, il Moab lo trovate anche nella versione 8 e addirittura 10. Come da tradizione ora lo svuotiamo e poi passiamo a guardare gli oggetti insieme. Zona patch, sistemi, molly clip, queste sono delle aggiunte estetiche per rendere più fighissimi i nostri zaini. Abbiamo una prima tasca admin, dove io sistemo quasi sempre nei Moab delle radio, quando mi vedete con i Moab perché ho ripreso un po' a fare attività radioamatoriale. Abbiamo a disposizione un pannello admin per passaporto, penna tattica che non manca mai, spray al peperoncino e coltellino ad ordinanza, un po' di bigliettini da visita possono finire qui dentro. Questi due gancetti con la cinghietta in nylon, in uno ho bloccato nel gancetto Enduroflex una nuova torcia di 511, tra poco ce la guardiamo insieme. Ancora portafogli nuovo, siamo andati sul grosso questa volta, vi spiego tra poco. E io non ho bisogno di portare una pistola, ma qui c'è una tasca apposita con l'interno in vecchio per bloccare una fondina e una pistola. Quello che faccio spesso però, soprattutto se devo affrontare dei viaggi in zone che non conosco, voglio essere ancora un po' più sicuro, è di bloccare lo spray al peperoncino con una di queste. Questa è una Light Whiting Patch di 511, è una semplice patch con inserto elastico e allora sì che blocco lo spray al peperoncino all'interno della tasca per la pistola. Ci vuole un po' per ragionarci, ma ce l'ho dove voglio, sempre a disposizione e se mi serve lo prendo subito. Perché questa è una tasca studiata per arrivare immediatamente alla pistola. Le tasche non finiscono qui, sullo spallaccio c'è un'altra zona patch dove ho sistemato il loghino di 511. E qui fazzolettini, qualcosa per pulirsi le mani. Insomma c'è anche un elastico se avete bisogno. La tracolla che è antiscivolo è accomodissima, coadiuvata poi da questi inserti in gomma che stabilizzano la borsa sul corpo e perfino a sgancio rapido. 511 fa le cose tattiche, lo sgancio rapido è una delle funzioni più importanti per togliere immediatamente l'equipaggiamento di dosso. Ok, questo è il Moab 6, rimane la tasca portaocchiali. È una tasca che loro hanno pensato per eventualmente sistemare una piccola sacca di idratazione. Ah, qui all'interno trovate nel Moab 6 il Tear System. State vedendo come si usa, serve per agganciare il Moab 6 ad un altro zaino. Potete sistemarci se ne avete bisogno un tablet o un lettore ebook. Rimane da vedere la tasca principale. Tasca principale a cui si accede in questo modo, rienvita con, beh di questo parleremo un'altra volta. Un prodotto che vi devo mostrare proprio oggi è tasche a rete, kit della bella giornata, di quando dobbiamo chiudere in bellezza una giornata o una settimana. Ancora fazzolettini di carta e qualche documento. Questo è giusto per mostrarvi un po' la struttura del Moab 6. Tutti gli altri ragazzi li trovate su backpack.it, recensione completa e tutte le informazioni. Adesso faccio un po' di pulizia e ci dedichiamo ai nuovi oggetti di questa settimana. Il primo oggetto dell'EDC di questa settimana è una nuova torcetta di 511, una torcia portachiavi. Accresce la famiglia delle 5.11 Deploy, questa è la piccoletta di casa, ma attenzione che è ancora capace di erogare 180 lumens, illuminando ad una profondità di circa 30 metri. È la classica torcia che vi basta per fare quasi tutto. L'avete lì al portachiavi, arriva con l'anellino a due livelli di potenza ed una batteria che con soli 280 mAh riesce comunque a fornirvi un'autonomia di 2 ore e 45 minuti. Per ricaricarla basta utilizzare un cavetto USB-C, non arriva in confezione. Magari volete utilizzare uno dei nuovi power bank di Nightcore, che noi già conosciamo le NB10000 e NB10000, ma di nuova generazione. La torcetta portachiavi si presenta così, con un interruttore sul dorso e dicevamo due modalità. La prima, quella alta, mentre la modalità bassa, quella a cui accedo con il secondo click, 30 lumens, 2 ore e 30 di autonomia e alla grandissima. È disponibile in due colori, questa Ranger Green che è bellissima o nera come la state vedendo a schermo. Come coltellino di questa settimana sono tornato all'ovile, mi piace sempre portare uno di questi, il Foxcore Tanto. Ce li ho un po' di tutti i colori, quindi mi piace anche variare. E la lama Tanto del Foxcore ha questo design molto accattivante. Sta bene ragazzi, sta bene in mano, è piacevole da tenere, è un ottimo coltello solido. E se avete amato il Foxcore classico, beh, se avete amato quello, vi piacerà sicuramente anche il nuovo Tanto. Un'apertura meravigliosa, di gran soddisfazione. Rimane un coltello versatile e affidabile, adatto sia per un uso tattico che per l'escursionismo, la caccia, addirittura per la sopravvivenza. Avevamo testato il Foxcore con un amico Enrico Garcia sul campo e io stesso lo porto senza problemi quando devo affrontare delle escursioni estive. Voglio un coltello leggero ma possente in tasca, perché no? Ottimo Foxcore. Parlavo dell'apertura perché è una delle cose che amo di più di questo coltello. Potete fare sì così come faccio io a frusta, ma col flipper è una lama pesante e la morte sua sta benissimo. In realtà si potrebbe anche utilizzare il foro sulla lama, ma non conosco nessuno che lo fa perché col flipper è estremamente più divertente. Realizzato in acciaio inox N690, temprato, secondo ricetta di Fox, a 58-60 HRC, la finitura della lama è, dicevamo, o top shield black, cioè completamente nera, oppure acid stone washed. La lunghezza della lama è di 9,7 cm, perfetto per fare qualunque cosa. Lunghezza totale del coltello 19 cm e lo spessore della lama è di 4 mm. Il tutto pesa 135 grammi, ma vi dirò che non si sentono per niente in tasca per un coltello di questa capacità, di queste dimensioni. Impugnatura in nylon rivestita con fibra di vetro e clip reversibile. Il distanziale è realizzato in alluminio anodizzato. Date un'occhiata alla recensione completa su Backpack.it, che trovate anche per gli altri modelli di Fox e per tutti i prodotti. Ah, se vi piacciono i coltelli Fox, dovete assolutamente partecipare alla prossima live di giovedì sera alle 21.30, dove con l'amico Alfredo Doricchi guarderemo il nuovo Fox, Ego. E veniamo al portafogli di questa settimana. Un portafogli che mi permette di costruire quello che io chiamo un fly-out kit o fly-out bag. Questo è il cash di VanQuest. Innanzitutto, nonostante sembra un portafogli classico, è realizzato con una tecnologia che protegge le carte di credito o i documenti elettronici dalla lettura non autorizzata. Una cosa che mi piace davvero tanto è questa tasca enorme per inserire una buona quantità di contanti. Ancora meglio, troviamo una zona per sistemare una chiavetta d'emergenza. Qui ci sta una chiave normale, una chiave normalissima per una serratura. Beh, ecco, ha spiegato il mio amore per questo portafogli. E adesso un oggetto che porto sempre con me, in un modo o nell'altro, una penna tattica. Innanzitutto, volevo condividere un po' con voi qualche pensiero. Perché? Portare una penna tattica. Una penna tattica è un oggetto che mi permette di difendermi in caso di bisogno. E cosa lo rende tale? La struttura e la geometria. Hanno delle lavorazioni sul bordo che mi permettono di sfilare la penna. E quando chiudo la mano, la chiudo su questa godronatura che la blocca in una presa. Non solo. Nel momento in cui la mano è chiusa, la penna offre una grande sporgenza che ti permette di essere molto più efficace in una situazione difensiva. All'interno trovate una cartuccia della Schmidt P900M ma la penna è anche compatibile con le cartucce Right in the Rain presturizzate che scrivono in tutte le situazioni. La penna arriva in due colorazioni, nera oppure silver, color metallo. La lunghezza totale è di 15 centimetri e mezzo. Una bella penna. Pesa soli 40 grammi. E' realizzata, come dicevamo, in alluminio da pieno. Ora un oggetto che deve rientrare nel nostro EDC se siamo soliti utilizzare uno zainetto e magari andare in bicicletta o comunque affrontare le giornate piovose di questo periodo. Sto parlando dello spray Ivis Commuter Rain Cover che significa copri zaino per la pioggia ad alta visibilità dedicato ai pendolari. E' molto chiaro come funziona. Lo sistemo sullo zainetto che ho qui che è un bellissimo comet. Vi basta inserirlo, vestire lo zaino così ed è fatto ragazzi. Mi piace un'altra cosa di questo copri zaino che non hanno tutti gli altri. La tasca esterna. Qui posso sistemare le chiavi o qualche altro piccolo oggettino e dopo aver sistemato tutto chiudo e quella che era la borsetta che prima conteneva il mio zaino adesso diventa una tasca esterna per non dover accedere all'interno dello zaino. La visibilità è massima. Abbiamo un sacco di stampe catarifrangenti rimane nero così è anche più figo ma è disponibile anche in arancione. Quindi scegliete pure liberamente in base al vostro stile ma prediligete sempre la sicurezza se dovete affrontare dei tratti in mezzo alle automobili con uno zaino. E con questo ragazzi concludiamo la nostra dose settimanale di vitamina EDC che torna sabato prossimo alle 14.30. Nel frattempo però domani alle 20 un'avventura su Monte Rosa in mezzo alla neve e alla fatica. Questa settimana torna anche il Backpackocast e martedì sera alle 21.30 in live solo su live.backpack.it per parlare di argomenti legati alle armi da fuoco. Le sorprese non finiscono qui perché giovedì sera alle 21.30 con l'amico Alfredo Doricchi sempre in live su tutti i social parliamo del nuovo coltello di Fox Lego. E poi non c'è bisogno neanche di ricordarlo il venerdì mattina a colazione tutti con il barpacco. Ora passate un buon fine settimana se siete appassionati come me di EDC lasciatemi pure un bel mi piace qui sotto così cresce la community di Backpacko e diventiamo sempre di più. Alla prossima ragazzi!